Noi abbiamo un quadro con cui io voglio operare con molta concretezza e gli argomenti sono che noi abbiamo allo stato attuale 5 milioni, che solo le somme urgenze ci porteranno ad avere 70 milioni. Oltre alle somme urgenze dobbiamo dare, non è il ristoro, ma è l'immediato soccorso alle famiglie colpite di 5 mila euro e alle imprese di 20 mila euro. È evidente che queste sono cifre che a fronte di quello che l'IRPET ha stimato, più di 2 miliardi di danno, necessitano almeno di 300-400 milioni subito e conseguentemente io questi li devo avere. Se arriveranno attraverso un intervento, uno stanziamento diretto del governo, se arriveranno attraverso l'emendamento che con molta rapidità e opportunità i deputati del PD hanno presentato, io guardo alla concretezza della gente, di cui ha bisogno, non ho bisogno i cittadini, l'importante è che arriveranno.